Ehi ragazzi, come va? Siamo pronti a sorridere insieme? Ok, oggi non vi voglio fare solo allenare, vi voglio fare strappare il sorriso della faccia. Ti serve un bastone di scoppa e due cuscini, ok? Il nostro lavoro sarà 30 secondi di lavoro attivo, 10 secondi sempre di cambiamento di posizioni. Siamo pronti? Insieme, iniziamo. Prima di tutto, fa riuscire il tuo sorriso, stai con me. Iniziamo il nostro risparmamento, poi il lavoro sono 30 secondi e 10. Sciogli le spalle. Aumenta la musica di Jay, avanti. Un po' di muovini, letti il tronco in avanti, teni l'obilico stretto, la testa con un po' di movimento. Ancora, 4, 3, 2, scendi un suono, giù, giù, ancora. Ancora, 5, 4, 3, 2, resta giù, cammina con me, vai avanti, torna indietro. Ancora, scendi, cammina, ritorna. Ancora, ancora 2 volte, scendi, lento, letto. Ci stiamo rispegliando ancora. Ancora un rò. Ritorna, sali, indietro, a fondo, letto. Uuuuuh, prepara le gambe. Sali, circonduzioni, uuuuuh, ancora. 4, 3, sciogli di più, 2, in avanti e sciogli le tensioni oggi dai, lasciati andare. Ancora, 4, 3, 2, scendi il suono e giù, giù, porta il gluteo dietro, ricordati le tue ginocchia, non devono andare avanti. Ci siamo, la resta giù, cammina, più veloce, avanti, salgo, avanti, salgo, ancora giù, cammina, ritorna. L'ultima volta, uuuuh, sali su, a fondo, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, gli ultimi 4, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, il nostro lavoro inizia adesso, sono 30 secondi di lavorativo, 10 di recupero. Il primo esercizio, facile, mi sposto, iscavando. Però lavoriamo solo verso la sinistra, quindi mi sposto, iscavando. Più difficile, salto e iscavando. Ok, puoi scegliere tra due missioni, lo puoi fare intenso, lo puoi fare più ligero. Siamo pronti? Ragazzi, 10 secondi partiamo. Prendi il piatto, o salti, o ti sposti, però vieni con me. 4, 3, 2, 1, via. Vai, salta, scavando. Uuuuh, salta. Ricordati, non vuoi saltare. Uuuuh, spostati soltanto. Haha, questo è l'inizio. Sono tre giri. Ogni giro si cambia esercizio. Vai. 10 secondi ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 10, lo facciamo fare un giro. Uuuuh, stop. Afferra il bastone. Ah, perfetto. Partiamo da giù, da qui. Si va in alto. Ok? Siamo pronti? 10, 30 secondi. Non avere fretta adesso, ok? Siamo all'inizio. Uuuuh, abbiamo tempo. Sono tre giri. Iniziamo. Voi vedrete. Resto con me fino alla fine. Uuuuh. Sopra. 10 secondi ancora. Uuuuh. La musica brucia dentro di me. Vai. 2, 1, stop. Vai a terra. Poggi i bastoni. Per ora faremo solo con i braccii a destra. Dopo i paio in ginocchio oppure no. Ok? Via. Scavanga. Ritorna. Soltanto il braccio destro per ora. Poi andiamo sul sinistro nel secondo giro. Uuuuh. Ancora. Che il numerico forna. Stai. Continuo fino alla fine. E... E... Riposiziona. Partiamo dalla sinistra verso l'estra. U4. Ricordi? Sforzati. E scappaglia. Via. I limiti. I limiti sono sempre qui. Puoi fare nel tuo tempo, nel tuo ritmo, come vuoi. Però, allora... 3, 4, 3, 2, 1, stop. Uuuuh. Ripartiamo qui, da giù. Uuuh. Bene. Dal basso. All'altro. Ci siamo? Via. Uuuuh. Uuuuh. Questa musica mi viene da ballare. 10 secondi ancora. Poi scendiamo giù. E il lavoro sul braccio sinistro. Ti ricordi? 4, 3, 2, 1. Uuuuh. Con il sinistro. O il ginocchio, o il plank. Come preferisci. Qui tutti, tutti possono venire. Nassi. Via. Basta parlare. Oh, yeah. Uuuuh. Uuuuh. Pa, 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 pa. Mi. Tta, tta. Continua Ok Stesso in un giro Si cambia un po' Salto qui Scavando Salto qui Così fai destra e sinistra insieme Via Alla tua velocità Puoi andare veloce Come vuoi Se non vuoi saltare Spostati soltanto Ok Io ho un problema con lo spazio Però tu se puoi Vai oltre Si torna giù Vamos Via Puoi velocizare o no Ok Lento Con i bastoni Senza bastoni Come vuoi 15 15 Ancora Se vuoi lo puoi fare anche a jump Se vuoi aumentare Se vuoi fare un patto più grande Io vi presento Per la fine Scendiamo giù Adesso è Una volta di destra Una volta di sinistra Ok Pronti Pronti Via Destra Sinistra Destra Sinistra Scendi con la destra Scendi con la sinistra Fai l'ortesnato E lavora Entrambe i lati Sinistra Voglio fare più veloce Se se la senti Ok Bebiamo un po' Sistemiamo tutto Si cambia un po' E Abbiamo I ricordi Di cuscini Che vi ho detto all'inizio Ok Lo usiamo adesso Allora Il primo esercizio Sarà un jumping jack Semplice Subito dopo Andiamo in appoggio Con torsioni Quindi la dama destra Va indietro E la torsione Va verso la sinistra La lavoriamo adesso Solo con la destra Nel secondo giro Usiamo la sinistra Ok Poi andiamo giù Si fa Il push up Con kind Ok Prepariamo 5 4 3 2 1 Adesso Lo puoi fare Con la dama Completamente distesa Oppure Fallo provare A me In pressione Come preferisci Ah Questo è quello Che mi piace di più Chissà perché Yeah Continua 10 secondi ancora 5 4 3 2 1 Stop A fondo Ti ricordo Gaba destra dietro Torsioni Verso la sinistra Palo letto Siamo all'inizio Ok Scendo Torno Scendo Torno Ok Vai giù E li stai Piano piano Per chi vuole intensivitare E farlo più veloce Lo puoi fare Vai giù Siediti sul tuo gluteo Ti ringrazierai Tu Anche i miei vicini Ti ringrazierai Sono contenti 5 4 3 2 1 Stop Resta giù Sono 4 push up 4 climber Lo puoi fare veloce Lo puoi fare Clunk Lo puoi fare con giù Si a terra Come vuoi Ok Pronti Via 1 2 3 4 Start 1 2 3 4 Io lo faccio lento Però lo potete fare Veloce Ancora Sono 36 anni Quindi vai alla tua velocità Ok Si ritorna Ora andiamo con la gamba sinistra Partendo da un jump jack Rock and roll Ranghiti Veloce 20 secondi ancora Spinto su Rock and roll 10 secondi ancora 5 4 3 2 1 Svista dietro Torzione a destra Ok 5 secondi 3 2 1 Via Anche qui Fa il lavoro controllato Senti 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 4 Alla tua velocità Siamo pronti Vamos Veloce Veloce Vali Stacca Anche veloce Lo puoi fare i crumb Anche a terra Se non puoi fare Quella se non puoi fare quel baston Ok Terzo giro Quello che cambia Sono gli affondi Sono alternati Ok Jumping jack Pronti Se vuoi Se vuoi Se vuoi Già detto che questo è quello che mi piace Senti i cuori Va che è anche il primo di musica Rock and roll 8 secondi 4 Stop Apponghi Alternati Quindi destra Torsione sinistra Sinistra Torsione destra Po lento One jump Via Sì Sono 4 E 4 Sì 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 40 secondi respira e si cambia si alza usiamo un cuscino come poggio e un cuscino per la voraccia sopra vi do le opzioni guarda o il resto sono in corsa o pari in corsa e salto è una spinta per soltanto puoi utilizzare i bastoni per spingere verso giù e poi salire le ginocchia non me lo sento di saltare faccio solo la corsa però ricordo e non mi dico per l'ho tirato inclino un po' i ritrovi e manchi e corri con il ginocchio alto pronti via corsa ginocchio corsa ginocchio puoi restare solo in corsa io uso qua il cuscino con il pavimento morbido però lo puoi fare senza 10 secondi con il pavimento morbido ok si cambia da qui facciamo squat scendendo sotto la destra non puoi velocisare io mantengo l'opzione quella facile ok continuo 10 secondi ancora 3 2 1 stop 3 side un bar peace faccio le pressioni con la pace del tema poi aumento ok quindi da qui 1 2 3 bar peace 1 2 3 poggio distendo torno questa è quella facile se non puoi side side bar peace ok si ritorna si sente ragazzi come dice con l'era con l'audio si sente via corsa ginocchio corsa vado a rimanere in corsa finisci ginocchio al petto sei buono con la sinistra ok via via sai giù giù lasso cheia buono iiii stop con l'ata go to l'ala do buco dai si stop 3 salve un po' attesa vieni la bocata d'aria via dai che sento come se fosse lì con voi uh mio cuore si riempie di gioia di nostalgia e prossimo dai dai uh uh già vai l'ultimo dai stop uh l'ultimo l'ultimo giro via dai 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 l'ultimo e che sei ok 5 1 questo è l'ultimo bicchiere di più abri qui tranqui sono ronti 30 secondi 15 secondi 15 secondi 15 secondi 15 secondi 15 secondi dai gli ultimi 15 ok ragazzi non sono più 40 secondi faremo un minuto di recupero ok e il lavoro adesso cambia sono 20-10 20 secondi ogni lavoro 10 secondi in recupero faremo dal primo all'ultimo esercizio ok quindi in totale sono 9 esercizi per due giri quindi 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 facciamo per quelli che sono più allenati per quelli che sono più allenati fanno tre volte io registro due così il video diventa molto duro ok quindi ripassiamo velocemente nella terza volta che abbiamo fatto l'esercizio è salta e il scavalga salta e il scavalga noi partiamo da questo ora andiamo sullo squat andiamo giù ok destra e sinistra in plank intanto ma la mano adesso spiego 10 secondi preparati se non ti vado a saltare ti ricordi solo il scavalga pronti? 3 2 1 salta scavalga sono solo 20 secondi quindi aumenta o rallenta uuuuuh vai ancora 5 secondi ce la facciamo andare e tornare 4 non so se vi ascoltate in plank uuuuuh ok partiamo da giù 5 secondi prepara 3 2 1 alla tua velocità via anche lento lo puoi fare io cerco di misurare così abbiamo possibilità di tutti allenare perché come lo sapete tutti tutti possono allenare certamente trovando il modo migliore andiamo giù una volta di destra una volta di sinistra una volta di sinistra con il ginocchio a terra oppi pronti via destra sinistra destra sinistra anche qui alla tua velocità quando ci alziamo atterriamo atterriamo il bastone per il jumping jack ancora 6 secondi qui ho un po' di limiti di spazio quindi cerco di regolarmi jumping jack ti ricordi? via via e continuare poi andiamo sui appunti alternati con torsioni dai 4 3 2 1 destra e sinistra destra dietro torsioni a sinistra ok? o jump o no non premettisci via ti ricordi? se vuoi qui 10 secondi poi abbiamo push up e climber ultimi 5 4 3 2 1 4 push up 4 climber lento veloce giù via 1 2 3 4 stanno 1 2 3 4 giù giù ok salto e cosa? non vuoi saltare? 3 2 1 via 10 secondi 3 2 3 3 spazio side 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 da su ok? via 1 2 1 2 1 2 secondi stop 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 6 6 6 6 7 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 12 6 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 18 18 19 20 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 31 Non so se sentite questa buzia. Mi piace troppo. Ok. Io lo faccio a jump. Voglio dare massimo. Puoi fare senza jump. Ok? Pronti? Via. Io cerco di limitarmi perché lo spazio è quello che ho. Ora sì. Alternati destra e sinistra. Wow. Via. Sinistra. Prepara a salire con il bastone. Poi, fiatone. Wow. Io faccio sul serio. Non mi esqueço. Stop. Non ho sentito il caldo. Tranquil. Gianni, via. Via. Si può aumentare questo timer? Non lo sento. Ora sì. Ora lo sentite sicuro anche voi. Non lo sentivo niente. a fondo alternante. Vamos. Ci stiamo adattando a casa. Per farvi allenare, ragazzi. Credi? Mi mancate? E fare questo mi riempio il cuore. Perché mi viene in mente ognuno di cuore. Veramente. Dico quel cuore. È come se fosse lì. Un cuore. Sempre. Push up. Climber. Alla tua velocità. Chi? Vai. Siamo alla fine già, ragazzi. Resta con me. Io non vi vedo. Ma sento nel cuore che siete con me. Siamo. Siamo. Un'ultimo. Vai, vai, vai. Giro il bastone. Uh. Corri. Sovra. Corri. Wow. Stai dando una carne, una pazzesca. Uh. 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 L'ultimo. L'ultimo. Partiamo da su. Sotto. Via. Uh. 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 3 side e barbis e finiamo pronti via o veloce o più alto come vuoi a me piace salterare avete capito spi spi wow grazie ok guarda qui sudore il cuore allora se volete potete ripetere questa fine ancora un'altra volta per me va bene così ho dato poco ma ho dato a voi grazie grazie veramente della vostra compagnia perché ti sento vicino respira facciamo solo respirazioni facciamo abbassare il battito e ci salutiamo ok ragazzi siamo arrivati alla fine ci distendiamo un po' e respiriamo soltanto ok quindi distendi rilassa il corpo respira fai abbassare la tua frequenza cardiaca afferra il terreno dei ginocchi stringi le ginocchia e pelle e rilassati intanto intanto noi faremo solo per sciogliere la tensione abbassare la frequenza ok potete seguire le lezioni di olissico dai miei colleghi siamo qui siamo qui per voi porta entrambi le ginocchia a destra mantieni il tuo sguardo a sinistra e cambia ginocchia a sinistra e sguardo a destra ritorni con il ginocchio in avanti afferrali spingli e ti metti in posizione da seduto da qui vai in accosciata completa le varica entrambe le gambe apri appoggia la mano a terra la gamba destra va giù appoggia il dorso dei piedi ginocchio taloni nella stessa linea spingi i quadriscipidi verso i basso scusate e ritorno e cambio faremo uguale a sinistra quindi poggia la mano sinistra indietro destra in avanti con ginocchio taloni nella stessa linea spingi i quadriscipidi verso i basso dorso dei piedi a terra e ritorna riappoggiando la mano va in centro e sfrottola guardando sotto abbandona il tuo corpo abbandona il peso rilassi ammorbidisce le ginocchie trascina le mani fino i quadriscipidi e vai su con la schiena su e giù su e giù su e giù rissali su piano piano e sfrottolando lasciando l'ultimo la cervicale fai una circondazione a terra la gamba destra dietro la stessa gamba destra adesso va indietro spingi i padoni e resta trascina la destra in avanti e abbraccia e rilassa giù sinistra uguale afferra la gamba sinistra tira i quadriscipidi della sinistra porta la sinistra dietro spingi i padoni di sotto rilassa sorridi abbiamo una giornata ancora da affrontare però siamo insieme e riporta in avanti abbraccia stai qui rilassa anche la sinistra fai un bel sfida su giù su giù su fai uscire un bel sorriso e grazie alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.